Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e come avete visto dal titolo un quesito, una domanda, riuscirò a rivoluzionare con questa nuova spesa i miei vlog? Sì? No? Chi lo sa? Non si sa. Lo scopriremo assieme perché la volubilità del denuncio vostro ha fatto sì che acquistasse un nuovo gadget. Lo sapete che io sono in fissa con tutta la tecnologia. Ho comprato la nuova Insta360 con il nuovo sensore da un pollice. Non devo farci nessuna attività, non è una pubblicità, è una cosa che ho voluto per me. L'ho comprata perché mi è piaciuto. Ho comprato questa e anche lo stelo da 3 metri perché con questo fucilotto da 3 metri riuscirò a fare degli effetti molto carini anche per il primo canale per simulare l'effetto drone quando magari non può volare in no-fly zone. Con 3 metri di stelo che diventa invisibile e l'Insta360 si riescono comunque a ricreare dei bellissimi effetti. Ma non è questo il punto del video. Comunque non vi preoccupate che non verrà fatto tutto qua dentro perché usciremo subito. Devo solo fare una piccola precisazione per farvi capire del perché ho speso mille euro per questa cam e dopo si esce e facciamo questo test così lo capiremo assieme se si riesce davvero a rivoluzionare un attimo il modo di fare vlog per questo canale, non per il primo, è proprio per la vita secondo Danny. Un qualcosa di smart, di veloce, di istantaneo. Come ben sapete, il vlog classico, ho preparato qua una telecamera normale, fa sì che io prenda il corpo macchina, applico l'obiettivo del caso, quello che mi serve, un microfono esterno, vloggo andando in giro così. Questo però ha un limite, ha un limite nel senso che qualità pazzesca, cioè tutto quello che volete, ottimo in ogni punto di vista tranne che su due. Il primo è la portabilità e il secondo è la stabilizzazione, ovvero la portabilità perché devo sempre avere con me una borsa fotografica, anche se piccola, dove all'interno ci metto il corpo macchina, uno o due obiettivi, il microfono e le batterie. Questo rende un po' complicato il vlog, quello istantaneo, quello rubato, quello dell'attimo, ovvero questo è un ottimo set quando so che devo uscire per registrare un video. Allora la qualità è ottima, è pazzesca, mi scazza un attimo la portabilità perché devo montarmi tutto, perché non la puoi mettere via tutta montata, se no rischi di rovinare il microfono o staccare qualche cavo. Sono molto delicate queste attrezzature, quindi si arriva, si monta tutto, si registra, magari ci si sposta, smonta tutto, è un po' una rottura di scatole. Infatti ho cominciato ad apprezzare tantissimo l'utilizzo dello smartphone per i vlog. Ma qui arriviamo al punto 2, il punto 2 che è quello della tecnica con la quale si registra un vlog rubato, istantaneo, che viene dal cuore, sono a farmi gli affari miei, c'è qualcosa di interessante, tiro fuori, registro, monto e faccio vedere ai ragazzi, o anche semplicemente per tenere tra la mia collezione di video privati. Ovvero che quando io sto vloggando, ho la telecamera in mano, l'appunto così, si vede solo quello che c'è davanti all'obiettivo e dietro di me. Ma cosa succede? Succede che se dietro la telecamera ci sono tre miei amici, può essere la Cerio, chiunque, o magari anche semplicemente un oggetto da mostrare, potrebbe essere un castello, un giardino stupendo, un cane, una bellissima macchina, una moto, per voi che siete amanti, anche una bellissima figa, cosa che io, a me figa, la sapete, assolutamente non posso, non mi piace, che brutta, mai in vita, può esserci dall'altra parte della macchina da presa un qualcosa di interessante, questo mi obbligherebbe a girarmi per poi mostrare. Questo fa sì che io non riesca a comunicare direttamente con chi è vicino a me, quindi non lo guardo, non comunico, e fino a poco tempo fa questo era la prassi, si vlogga così, che sia col telefono o con la telecamera, devo scegliere cosa riprendere, dove posizionarmi, cercare di non occludere la visuale se voglio mostrare qualcosa dietro, insomma, ci si cercava degli stratagemmi. Ma quando Insta360 ha lanciato questo oggetto, ho subito pensato, attenzione, ma vuoi che il form factor, quando l'ho visto, mi ha fatto impazzire, impugno la mia macchina da presa, ho uno schermo qua di fronte a me che mi permette di vedere quello che sto riprendendo, quindi mentre mi sto riprendendo riesco a capire e a gestire l'immagine grazie al monitor, che posso far ruotare per scegliere quello che sto vedendo, ma la cosa pazzesca è che non mi devo curare di quello che sto riprendendo. Dal monitor riesco a tenere tutto sotto controllo, i parametri, vedere se c'è una buona esposizione, se devo settare, perché ha anche la possibilità di settare manualmente. Ma la cosa figa è che quando io sto registrando così e davanti a me c'è qualcuno che può intervenire, non mi devo curare di girare, mettermi con le spalle vicino alla persona che sto magari intervistando o con la quale stiamo parlando e assieme guardare l'obiettivo. No, posso restituire, questo è nella mia fantasia, dopo vedremo se è possibile, una sorta di montaggio intervista dove io sto sia registrando me che le persone che sono dall'altra parte. Sto guardando una macchina, io sto guardando me, quindi posso riprendere le mie reaction e allo stesso tempo riprendere la macchina, le moto o chiunque ci sia dall'altra parte. Questa è una cosa che dà veramente, a mio avviso, la svolta, ma lo vedremo se è possibile. Mi sono venuto in mente un'infinità di utilizzi, ovvero sto facendo una riunione, metto la cam al centro della tavola, magari con il suo estensore che diventa invisibile e posso registrare anche a livello professionale e lavorativo il meeting, la riunione che sto facendo con lo staff, riprendendo tutti e registrando l'audio di ognuno. Un'altra cosa importantissima, e qui andiamo a dare un calcio, si spera, allo smartphone, il sensore, perché sappiamo che per quanto riguarda la portabilità questo vince su tutto, perché lo smartphone ce l'abbiamo sempre dietro ed è stato veramente un fedelissimo compagno per riprendere un sacco di cose dove magari non potevo portarmi dietro nulla, ma il sensore è piccolo. Qui abbiamo il sensore da un pollice che promette riprese notturne buone. Ovviamente non abbiamo tra le mani una telecamera che permette di riprendere di notte con obiettivi pazzeschi e estremamente luminosi, ma se solo si avvicina a quello che promette per quanto mi riguarda, io ho già vinto. Perché provate a pensare, vai in ferie, prendi l'aereo, vai a Budapest perché stai facendo un viaggio, ti porti dietro questa, 256 giga gli ho messo di memoria, ho quattro ore di ripresa. Mi posso riprendere tranquillamente in aeroporto mentre sono in aereo. Quando scendo, riprendere la città che è una cosa pazzesca e io non vedo l'ora di farlo, la ripresa a 360 gradi mentre magari io e Ceri stiamo passeggiando per le vie di una città bellissima, riusciamo a sia riprendere noi e magari a registrare anche la nostra reaction. Wow, che bello, guarda che bello, bellissimo! Ma allo stesso tempo riprendere tutto sotto, sopra, destra, sinistra ed è una cosa unica. Ma una cosa che non voglio fare nel test, lo vedremo adesso, è quello di non mettere nessun accessorio. perché sennò andiamo di nuovo nel loop degli accessori che compromette un'altra volta la portabilità. Perché se devo portarmi l'adattatore per il microfono, mettermi i microfoni, star lì, settare, calibrare l'audio, no, assolutamente. Ma adesso usciamo e facciamo un test su questa con la sua naturale portabilità, come se fosse uno smartphone, ma con il vantaggio della ripresa a 360 gradi e del sensore decisamente più grande. Le riprese sono in 6K a 24, 25 e 30 fps, un 6K a 25, mi permette dopo di uscire con un 4K decisamente più dettagliato e magari fare anche qualche crop strizzando un pochino l'immagine e portando a casa di sicuro un risultato e sono davvero curioso di provare. Ma adesso basta, Danny, chiacchierone che non sei altro! Usciamo e andiamo a fare il test! E usciamo dove? Ho appena guardato, il video dura più di otto minuti solo così della spiegazione, io ho anche provato a scervellarmi per farlo un po' più strizzato, però sono tutte cose molto importanti per farvi capire il concetto del perché ho fatto questo passaggio e cosa mi aspetto. Quindi, purtroppo, il test di questa arriverà in un altro video. Io adesso vado a farlo subito, però non vi piazzo una pizza da 20 minuti di video. Quindi oggi la teoria e domani la pratica. e commentate e scrivetemi qualcosa. Eh... Noi, ciao! Grazie.